Dai servizi segreti libici la conferma della rilevante presenza di miliziani dell'ISIS sul territorio italiano, in particolare alcuni documenti rinvenuti nei covi della città di Sirte portano a Milano dove ha vissuto Abunazim, soggetto ritenuto pericolosissimo. Intanto una nuova espulsione dal nostro paese, si tratta di un tunisino di 26 anni che aveva annunciato su Facebook il suo martirio con un attentato alla Torre di Pisa. I miliziani dello Stato Islamico sono in fuga da Libia e Siria liberati, 2000 ostaggi nelle mani dell'ISIS in ritirata da Mambiji, città siriana al confine con la Turchia. Sirte, roccaforte del califato nel Nord Africa, è ormai vicina ad essere conquistata dall'esercito del governo libico. Una giornata difficile a Genova dove a causa dei maggiori controlli previsti in tutti i porti italiani, file chilometriche sono presenti da questa mattina nelle strade di accesso al porto Ligure necessarie fino a 4 ore di attesa. Nel fine settimana saranno oltre 40.000 le persone in transito in Liguria. Dopo i contrasti interni sul referendum e le richieste di modifica all'Italicum sull'agenda autunnale del governo Renzi annota un altro ostacolo da superare, quello della brusca frenata del PIL. Gli spazi per agire sulla manovra di autunno sono sempre più stretti, come conferma il ministro dello sviluppo economico Calenda che aggiunge continueremo a batterci con l'Europa per ottenere tutta la flessibilità possibile. Un'altra grande giornata per l'Italia ai giochi di Rio de Janeiro. Conquistate tre medaglie con la finale tutta azzura nello skit. Oro a Diana Bacosi, argento a Chiara Cainero e dal canottaggio arriva il bronzo del quattro senza. Solo quarta la squadra di Fioretto Maschile. Stanotte tocca Gregorio Paltrinieri nel 1500 stile libero. Ne parleremo in TG Cronache tra poco. Buongiorno dalla telegiornale della Sette. Dunque l'avete sentito nei nostri titoli le forze democratiche della Siria, una coalizione kurdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti, hanno liberato definitivamente Mangibi che si trova al confine con la Turchia ed è un centro strategico per quelli che sono i collegamenti con Raqqa. Liberata la città dunque dalle ultime sacche di resistenza dei jihadisti. Liberati anche così i 2000 civili che erano stati utilizzati come scudi umani. La conferma ufficiale è arrivata nelle prime ore di questa mattina. La città di Manbij adesso è completamente libera dalla presenza dell'ISIS. Eliminata anche l'ultima sacca di resistenza, il quartiere settentrionale di Al-Sarb dove gli uomini del califato per coprirsi la ritirata avevano di fatto preso in ostaggio circa 2000 civili. Adesso sono tutti liberi, assicurano i combattenti delle forze democratiche siriane e la coalizione arabo-kurda che dopo 73 giorni di battaglia ha ripreso la città con il sostegno degli Stati Uniti. Proprio ieri il Dipartimento della Difesa americana aveva diffuso le immagini dei bombardamenti contro postazioni dell'ISIS nella zona di Manbij. La libertà per gli uomini significa potersi finalmente tagliare le lunghe barbe imposte dai censori del califato e per queste donne avere la possibilità dopo due anni sotto lo Stato islamico di bruciare il niqab, il velo integrale e tornare a mostrare in pubblico almeno il viso. E la libertà di Manbij significa un passo avanti significativo anche per la questione della sicurezza in Europa. Da questa città infatti posta sulla strada principale che collega Aracca, la cosiddetta capitale del califato, con il confine turco passava fino a pochi giorni fa la maggioranza dei foreign fighters che andava ad unirsi alle truppe di al-Baghdadi o al contrario lasciava le terre dell'ISIS per tornare verso l'Europa. Un colpo durissimo quindi per la Jihad. E al-Baghdadi vede contrarsi sempre di più il territorio direttamente controllato dalle sue truppe. Di poche ore fa la notizia che anche l'esercito iracheno ha riconquistato quattro villaggi vicini alla città di Mosul, la roccaforte dell'ISIS nel paese. Anche qui grazie ai raid della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. E da un altro teatro di guerra arriva la notizia di un altro colpo durissimo, l'annuncio della morte di Hafiz Saeed Khan, considerato il capo dello Stato Islamico in Afghanistan e Pakistan. Non è la prima volta in realtà che la morte di Khan viene annunciata, era successa anche l'anno scorso ed era stata smentita evidentemente a ragione dall'ISIS. Ma ieri i fonti della difesa americana hanno annunciato che l'uomo sarebbe stato ucciso con un attacco da parte di un drone lo scorso 26 luglio nella provincia di Nangarar, quella che i suoi uomini avevano terrorizzato per mesi. Dunque ISIS è costretto ad arretrare in Siria così come in Libia perché Sirte, la roccaforte del califato nel Nord Africa, è ormai vicina ad essere conquistata dall'esercito del governo libico. E qua emerge che jihadisti affiliati all'ISIS, come detto nei nostri titoli, si troverebbero nel milanese. Questo lo rivela il Corriere della Sera, ma è quanto emerge dai documenti trovati nel covo dell'ISIS a Sirte. Uomini dei servizi segreti libici avrebbero trovato nomi e piani di attacco di militanti jihadisti, tra cui quello di Abu Nazim che viveva in Lombardia, considerato uomo vicino ai rapitori dei tecnici della Bonatti che erano stati sequestrati lo scorso anno vicino a Tripoli. Le macerie dei palazzi bombardati di Sirte stanno restituendo alle forze libiche in avanzata sulla città documenti e computer che potranno raccontare molto del sedicente Stato islamico e fare chiarezza su parte dei suoi programmi e della sua organizzazione. Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera nei luoghi su cui fino a pochi giorni fa sventolava la bandiera nera sono stati trovati quaderni e tacquini contenenti istruzioni su come realizzare ordigni artigianali e soprattutto organigrammi delle cellule del terrore e progetti su uomini da inviare in Europa e in Italia sui berconi dei disperati. Scacciati dalla Libia grazie anche ai bombardamenti americani e alla presenza sul terreno di forze speciali, tra le quali ci sono anche quelle italiane, i tagliagole avrebbero deciso di spostarsi in Tunisia, nella zona a ridosso del confine libico. Un luogo di traffici di ogni genere dove si muovono piccoli gruppi di banditi e di terroristi coinvolti nel rapimento conclusosi con l'uccisione di due dei quattro tecnici italiani della Bonatti. Quello del trasferimento in Tunisia è un piano che è stato confermato al Corriere da Atef Alduvadi, uno dei capi della colonna tunisina ora nelle mani dei libici, considerato responsabile anche dell'attentato al Museo del Bardo dove morirono quattro italiani. Al Sirte intanto continua l'avanzata delle truppe libiche, sono sempre meno gli uomini in nero asserragliati nella città che fu il luogo di nascita e di morte di Gheddafi. Il centro congressi Uagadogu, voluto dall'ex Rais come luogo dove tenere i vertici di quello che fu il suo sogno panafricano, è stato strappato ai seguaci del sedicente califo che ne aveva fatto il quartier generale. Della città più amata da Gheddafi restano macerie, fumanti e strade minate, oltre ai muri con scritte inquietanti come quella trovata vicino al porto. Da qui partiremo alla volta di Roma. Abu Nassim, tunisino, residente a Milano in via Paravia dalla fine degli anni 90 fino al 2012, è il nome che è stato fatto in questi giorni dai servizi segreti libici ai colleghi italiani. Fino a qualche mese fa era a Sirte come miliziano dell'ISIS ma è una vecchia conoscenza italiana. Faceva base in Lombardia e per anni si è mosso per creare proseliti e agire il nome della Jihad. Altri nomi potrebbero trovarsi nelle carte degli jihadisti trovate nel loro covo di Sirte. La sicurezza libica mette in allerta quella italiana. Ci sono riferimenti a tunisini, sudanesi e libici in azione nel milanese dove sono arrivati infiltrandosi nei barconi insieme a tanti disperati. Nassim, già arrestato dagli americani e poi riconsegnato all'Italia insieme ad alcuni detenuti di Guantanamo, dopo anni di indagini fu inquisito per terrorismo nel 2012 ma a marzo di quell'anno la corte d'assise di Milano lo assolse. Poco dopo fu espulso dal Viminale per ragioni di sicurezza pubblica. Dall'Italia fece ritorno in Tunisia e poi in Siria. Quella di Nassim non è l'unica rete islamica che ha attecchito in Lombardia. L'ultimo rapporto del Viminale parla di 102 radicalizzati ed espulsi dall'Italia quest'anno. Maria Giulia Sergio, la foreign fighters d'Inzago che aveva cercato di convertire e far partire per la Siria tutta la sua famiglia, era stata in contatto con Bledar Ibrahim, albanese di 20 anni, espulso da Pozzo Dada a marzo. Era lui il professore che tanto aveva influito sulla conversione di Maria Giulia ma forse anche su quella di Aftab Farouk, il pakistano giocatore di cricket, espulso dieci giorni fa a Vaprio Dada, provincia di Varese. I Ross stanno tuttora lavorando alla ricostruzione dei contatti in Italia di questo albanese che ora è tornato in patria e per dieci anni non potrà rientrare in Europa. Più preoccupante invece è la situazione dei tanti miliziani dell'ISIS fuggiti da Sirte in questi giorni con l'obiettivo di ricostituire una colonna nel Nord Africa pronta a ripartire verso il Mediterraneo. Tunisino come Abunazim, il 26enne che in queste ore è stato espulso dal nostro paese perché dai social network emergevano chiaramente i segnali che fosse pronto ad agire, a farsi martire, probabilmente a colpire a Pisa, forse alla torre di Pisa. Sul fronte della sicurezza interna intanto da ieri sono stati aumentati i controlli soprattutto ai porti, alle navi in partenza, ai traghetti. Aveva scelto come pseudonimo il nome di un calciatore olandese, Raphael van der Waart, sul suo profilo Facebook anche una foto con la maglia del Milan nell'espressione sorridente. Bilal Shiaoui, tunisino di 26 anni proprio dopo quanto scritto su Facebook è stato arrestato ed espulso un uomo che arma una pistola alla foto che ha insospettito gli investigatori che da tempo lo seguivano. Il segnale che secondo gli inquirenti era pronto ad attaccare, tra gli altri post un messaggio inquietante con i nomi di altri jihadisti che si concludeva con il suo nome un luogo preciso dove attaccare il quartiere residenziale di Pisa, porta a mare. I carabinieri del Rosso lo hanno arrestato nei boschi, attorno alla città dove Shiaoui si era rifugiato dopo un breve inseguimento, si era radicalizzato nelle passate settimane dopo colloqui avvenuti con due foreign fighter tunisini morti da poco in Siria e Iraq. L'opera di prevenzione quindi continua come testimone nel weekend più caldo dal punto di vista delle partenze per le vacanze estive e l'innalzamento del livello di allerta nei porti italiani. Da ieri infatti più serrati, controlli in partenza, metal detector, bagagli e abitacoli esaminati in profondità, accessi in prossimità degli imbarchi solo per persone regolarmente munite di biglietto. Una meticolosità che al momento ha comportato pesanti rallentamenti soprattutto nel porto di Genova dove da ieri migliaia di persone si avvicendano in code chilometriche attendendo in un intreccio serratissimo di lamiere il proprio turno prima di prendere traghetti per Corsica, Sicilia, Sardegna. Al momento, nonostante una o due giorni che dovrebbe vedere partire via mare dalla Liguria, almeno 50.000 persone si registrano ritardi in partenza in media di una trentina di minuti con la capitaneria di Porto che consiglia di arrivare quattro ore prima agli imbarchi. Il problema è soprattutto sulle vie di accesso al porto. Le code che si sono già formate sulla 10 e sulla 7 potrebbero ulteriormente allungarsi. Code anche in arrivo al porto di Napoli, ma per ora né nel capoluogo campano e nemmeno negli altri principali porti d'Italia, nonostante l'intensificarsi dei controlli, si registrano particolari ritardi. C'è da dire che intanto in queste ore la situazione dell'accoglienza è sempre più complessa grave. L'asse è quello tra il governo e i comuni. Da un lato c'è l'esigenza del governo di fronteggiare l'emergenza dell'immigrazione e dall'altra c'è la risposta dei comuni e dei prefetti che vedono il territorio e gli abitanti non voler accogliere sempre migranti in continua crescita. Si calcola che solo un comune su quattro tra quelli che partecipano alla rete dell'accoglienza si è dimostrato disponibile ad accogliere nuovi migranti come previsto dal piano messo a punto dal Ministero dell'Interno che prevederebbe circa due o tre migranti ogni mille abitanti. L'ultima arriva dalla Sardegna, isola nella quale problematici sono gli arrivi, affari spenti e dove sono attesi i primi 40 dei 135 profughi provenienza a 20 miglia. A sollevarla la polemica è il coordinatore regionale di Forza Italia Cappellacci spalleggiato da quello di noi con Salvini. In questo caso il carattere politico è ben evidente ma la galassia migranti ha assunto ormai proporzioni in Italia tali da scavallare qualsiasi steccato di stretta appartenenza politica lasciando a nudo il cuore del conflitto, quello tra amministrazioni locali, in primo luogo comuni e potere centrale sull'asse governo prefetti. Le prime alle prese con lo scontento e le proteste talora giustificati talora meno dei propri cittadini, il secondo sempre più sotto pressione con l'aumento degli arrivi, la difficoltà dei rimpatri, l'insufficienza delle risorse a disposizione, lo scarso seguito dimostrato da Bruxelles alle soluzioni proposte e vedi Migration Compact, il blocco sempre più rigido delle frontiere in attesa del replay del voto austriaco atteso per il 2 ottobre. Risultato solo un comune su quattro tra quelli che partecipano alla rete di accoglienza si è dimostrato disponibile ad accogliere nuovi migranti in risposta al piano messo a punto dal Ministero dell'Interno che ne prevede in quota 2-3 per ogni 1000 abitanti. E sonori no, arrivano anche da comuni teoricamente insospettabili come quelli di Capalbio, meta privilegiata di una certa sinistra benestante. A poco o nulla sembrano valere le deroghe promesse su patto di stabilità e blocco turnover in un conflitto costellato di richieste e anche imposizioni inascoltate, di minacce giudiziarie, di numeri esibiti in una guerra che è fatta anche di cifre, chi ne ha troppi e chi troppo pochi, di accordi particolari con albergatori o simili. Di sicuro c'è che finiti i posti nelle strutture istituzionali si è aperto il territorio improvvisato di quelle straordinarie, come visto in questi giorni anche a Milano, che non si contano ormai i ristoranti, gli alberghi sovvenzionati, in un business dell'accoglienza che può solo aumentare con l'aumentare degli sbarchi e su cui grava sempre il piombo della corruzione. Intanto in questo scenario c'è anche l'altro fronte che preoccupa e che è quello economico perché l'Italia non cresce, il PIL resta invariato. Dunque nel secondo trimestre, secondo i dati di Stat, la crescita è quella più bassa in Europa. Un dato però che non costituisce una sorpresa, secondo il Tesoro, che garantisce anche che i conti e i pubblici del nostro paese sono sotto controllo. Il ministro dello sviluppo economico Calenda dice che il debito non può più crescere, non può più aumentare, ma annuncia anche che nelle intenzioni dell'esecutivo c'è quello di continuare a chiedere quanta più flessibilità possibile all'Europa e maggiori sconti sul deficit. In Italia il prodotto interno lordo non cresce e il debito pubblico sale più del previsto. Il paese intero si chiede quali risposte fornirà il governo nazionale ai rigoristi dell'Unione europea. Chiederemo all'Europa tutta la flessibilità possibile, anche quella che ora vuole negarci. Parola di Carlo Calenda. Intervistato dalla stampa e ministro per lo sviluppo economico spiega che il nostro paese deve fare molto su produttività, innovazione ed internazionalizzazione. Di fatto però, dopo cinque trimessi di crescita, il prodotto interno lordo del 2016 acquisito, quello cioè che si avrebbe in caso di variazioni nulle nei prossimi due trimestri, sale meno del previsto, più 0,6% dalle stime preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica contro l'1,2% stimato dal governo ad aprile. Per non dire del nuovo massimo storico raggiunto a giugno dal debito pubblico nazionale comunicato da Banca d'Italia. 2.250 miliardi, sette in più del mese prima. Due dati che scuotono i palazzi della politica perfino in questo fine settimana di esodo agostano. Nessuna sorpresa e conti pubblici sono sotto controllo, assicura il Tesoro, che poi descrive un quadro di luce ed ombre citando la spinta al prodotto interno lordo che arriverà entro l'anno grazie ai maggiori investimenti pubblici programmati e il peggioramento dell'economia globale che frena le esportazioni. Chiamato al confronto con l'immancabile prima della classe per il ministro dello sviluppo economico Calenda, la Germania ha un rapporto export prodotto interno lordo prossimo al 50%, l'Italia al 30%. I tedeschi non devono fare i conti con un cuneo fiscale pesante come il nostro, anche se, assicura, nella legge di stabilità il taglio dell'IRES non è in discussione. Germania, che ricorda, ha fatto pulizia nei bilanci delle banche utilizzando denaro pubblico quando ancora l'Unione Europea lo permetteva, così come Spagna, Olanda ed Inghilterra. Opportunità hanno sfruttato dai governi italiani precedenti che, dice, ha offerto un grande vantaggio competitivo ad alcuni partner europei. Quanto alla flessibilità, Calenda assicura di voler rispettare le regole, ma di essere pronto a battersi per cambiarle. La comunicazione della Commissione Europea di gennaio 2015 parla di grado di flessibilità condizionato a riforme ed investimenti. Noi rimaniamo a quella indicazione. Per ragioni a me poco chiare, l'Ecofin, nel frattempo, ha detto che quella flessibilità va applicata a una tantum, una decisione sbagliata, conclude. Dunque, questi sono numeri che, letti politicamente, sicuramente non aiutano Matteo Renzi nel suo piano di azione, anche in vista del referendum costituzionale di novembre. Sono numeri che invece aiutano le opposizioni, il centrodestra, ma anche la minoranza interna del PD ad attaccare la politica economica dell'esecutivo. Una frenata prevista, ma non per questo meno dolorosa. I dati sul PIL scatenano gli attacchi delle opposizioni, ma soprattutto complicano i piani di Matteo Renzi, che puntava ad arrivare all'appuntamento decisivo di novembre con il referendum costituzionale, con un'economia in salute e la possibilità di inserire qualche sorpresa nella legge di stabilità. Ipotesi oggi più lontane, con il rischio che un altro trimestre a crescita zero, o peggio negativa, possa essere un duro colpo all'immagine del governo. Da Forza Italia Brunetta attacca. Crescita zero, deficit in aumento, debito al massimo storico. Di tutto questo dobbiamo dire grazie a Renzi e al suo governo, che in questi anni non ha fatto assolutamente nulla, solo spese per comprarsi il consenso. Il leghista Calderoli completa il pensiero. Gli italiani ormai non si lasciano più incantare, hanno capito che prima ci liberiamo di Renzi, meglio sarà per tutti. Stessa conclusione per Luigi Di Maio, 5 Stelle. Se Renzi avesse ha abolito Equitalia, ha fatto il reddito di cittadinanza, una seria legge anticorruzione, una seria spending review, oggi i cittadini italiani lo acclamerebbero al di là del PIL. Invece ha preferito fare leggi per salvare banche, gli evasori e le loro poltrone. Ecco il risultato, ora a casa per favore. E agli attacchi delle opposizioni si sommano i problemi con la minoranza PD, che chiede al Premier segretario di cambiare la legge elettorale in cambio del sostegno al sì al referendum. Sbagliato mischiare il piano della riforma con la legge elettorale, risponde il vice segretario PD Lorenzo Guerini, è giusto dialogare al nostro interno e si può ricominciare subito dal sistema di voto del nuovo Senato, ma non al punto da accettare poteri di veto. L'elezione del nuovo Senato sembra quindi la prima possibilità di tregua nel PD. Nella riforma Boschi l'elezione del Senato era stata rimandata ad un'apposita legge, un compromesso con la minoranza DEM che chiedeva l'elezione diretta dei nuovi senatori. Quanto all'Italicum Renzi non sembra disposto a trattare sulle modifiche. Se riparlerà dopo il 4 ottobre, quando sulla legge elettorale per la Camera si pronuncerà la Corte Costituzionale. Ankara non può scendere a patti a compromessi con gli Stati Uniti sulla richiesta di estradare l'imam turco Fethullah Gulen, considerato come sapete l'organizzatore del fallito golpe militare del 15 luglio scorso. A dichiararlo è proprio il Premier turco Ildirim, parlando con i giornalisti. Secondo il Primo Ministro l'atteggiamento di Washington sull'estradizione di Fethullah Gulen è comunque migliorato. Adesso andiamo negli Stati Uniti dove aumenta il vantaggio di Hillary Clinton nella corsa chiaramente alla Casa Bianca in tre Stati chiave. Un vantaggio quello della democratica complessivamente nei sondaggi di 10 punti sul magnate Donald Trump che da par suo non sembra assolutamente voler cambiare né toni né contenuti di questa campagna presidenziale pur ammettendo per la prima volta che potrebbe non farcela. Donald Trump per la prima volta lo ha ammesso pubblicamente potrei non farcela. La consapevolezza del candidato repubblicano ha colto di sorpresa non solo i sostenitori della Florida ma l'opinione pubblica statunitense, abituata invece alle sue gaffe ed ai suoi affondi sopra le righe. Eppure questa volta il miliardario new yorkese ha riconosciuto che la sua mancanza di correttezza in politica gli potrebbe costare l'elezione. In particolare Trump ha detto di avere un problema enorme nello stato dello Utah. A fare aprire gli occhi al candidato repubblicano sono i risultati dei sondaggi che danno sempre più favorita nella corsa per la Casa Bianca la sua avversaria Hillary Clinton. La candidata democratica appena due giorni fa risultava in vantaggio in tre stati chiave come l'Iowa, la Pennsylvania e l'Ohio. Oggi è il Los Angeles Times per annunciare il sondaggio alla mano la parabola di Donald Trump. Secondo il giornale infatti Hillary Clinton sarebbe in vantaggio tra i giovani di un'età compresa tra i 18 e i 34 anni con poco più del 44% contro il 38,3% di Trump. Anche nella fascia intermedia della popolazione compresa tra i 35 di 64 anni prevale la Clinton con il 45 contro il 42,7%. Il candidato repubblicano dominerebbe invece tra gli anziani con un'età superiore ai 65 anni attestandosi con il 49,3% contro il 42,9% della candidata democratica. Se si votasse oggi l'ex first lady ce la farebbe anche tra quelle fasce della popolazione con un reddito inferiore ai 35 mila dollari ma anche tra quelle con un reddito superiore ai 75 mila. Trump invece incasserebbe il voto degli americani di quella fascia a metà tra i poveri e i ricchi. Nessuna novità anche per quanto riguarda le preferenze di genere, le donne con il 47% voterebbero per la Clinton contro il 38% di Trump. Dati diametralmente opposti invece tra gli uomini, tra loro il 48% voterebbe per il candidato repubblicano, il 41% per la Clinton. Infine l'etnia e la candidata democratica con oltre l'88% dei consensi strapazza Trump nell'elettorato afroamericano mentre tra i bianchi vincerebbe Trump con poco più del 53%. La Clinton intanto ha reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi e quella del marito Bill, una procedura che tutti i candidati presidenziali a partire da Richard Nixon nel 1973 hanno sempre fatto. Donald Trump invece potrebbe essere il primo a non farlo. Adesso come sempre la linea passa a cronache con l'approfondimento dedicato ai giochi e di Rio. È stata una bella giornata per l'Italia che ha conquistato tre medaglie, una per genere come, quali e dove lo spiegherà appunto Andrea Prandi tra pochi istanti. Grazie a tutti noi ci vediamo domani.